Il sindaco di Santa Sofia de Piro, Daniele, mi pare che non mi è sfuggito nessuno, poi è stato il simbolo abbrigionale. Per riuscire ad avere finalmente su questa zona. Abbiamo fatto questa battaglia senza simboli di partito e penso che questo sia un esempio di come... ...ebbene, corretto e onesto ricordare che noi abbiamo ottenuto questa fermata perché la Presidente della Regione, Iole Santelli, ha voluto, chiesto e ottenuto, tra l'Italia, per consentire questa fermata, doveva avere una richiesta ufficiale in Tato Regione. E Iole Santelli ha fatto questa richiesta ufficiale ed è una vittoria di squadra che ha superato, come ha detto Alessandro Melicchio, le divisioni della politica. E ci ha portato qui questa sera tutti insieme a rivendicare questa grandissima conquista e soprattutto a dare una speranza più dulce perché ci possa essere, dopo questa terribile pandemia, un futuro miglioro per tutti. Grazie. 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 Grazie.